A Iuto stiamo perdendo i giovani. E' questo il grido d'allarme che arriva dal mondo dello sport, in particolar modo dal mondo del calcio, ma il riferimento, a differenza di quanto si potrebbe immaginare, non è all'ultimo DPCM del Premier Conte che ha vietato lo sport amatoriale da contatto le cosiddette partitelle di calcio, calcetto e basket, soprattutto tra gli amici. Il riferimento infatti in questo caso non è allo sport praticato, ma è allo sport guardato, guardato in televisione, perché i giovani dai 16 ai 24 anni, come vedremo poi nelle nostre grafiche, non sono più così tanto appassionati come in passato e soprattutto non hanno più l'attenzione e la voglia di stare 90 minuti incollati davanti al televisore per guardarsi un'intera partita. E allora che cosa succede? Succede che lo sport cerca di adeguarsi, di trasformare se stesso anche se è necessario, per non perdere appunto quella fetta di pubblico più giovane. Ma andiamo a vedere i dati a partire dal nostro primo cartello grafico. Ebbene, il 27% della popolazione dai 16 ai 35 anni si dichiara fan a stido di sport, una percentuale estremamente inferiore rispetto al passato, pensiamo solo agli anni 80-90 quando tutti erano molto appassionati di sport. Il 27% della popolazione tra i 16 ai 24 anni dichiara di non avere interesse per il calcio, anche questo un numero significativo. E poi il 32% della popolazione tra i 13 ai 24 anni segue il calcio solo per uno specifico giocatore o solo per i big match. Questo cosa significa? Che sta venendo meno l'affezione tra il tifoso e la squadra. Il tifoso appunto si concentra solo sul suo idolo oppure solamente sui big match. Quindi cambia anche proprio il modo di interpretare lo sport, di guardarlo e certamente hanno sempre più valore in questo momento storico i social, anche nella visione dello sport. come possiamo vedere dal nostro secondo cartello grafico. Andiamo ad analizzare i numeri. Il 60% dei risultati arrivano dai social, il 60% dei risultati delle partite. Il 58% dei giovani dai 16 ai 24 anni usa i social per aggiornamenti sulla squadra mentre guarda la partita e il 52% vorrebbe usare direttamente i social come piattaforma per guardare la partita. Ecco, questi sono dati significativi perché cosa ci dicono? Innanzitutto che i giovani appunto mentre guardano la partita in realtà non guardano solamente il televisore ma sono costantemente aggiornati anche appunto su diversi device, gli smartphone, il tablet e molto presto le partite potrebbero essere trasmesse direttamente dai social, da Facebook o da Instagram. E proprio ecco sul ruolo dei social nella visione dello sport si è interrogato il CEO della Liverpool, Peter Mura, che in una intervista al Paese ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti. La lotta per conquistare gli sprazzi di attenzione dei giovani, frammenti di tempo. Dice Peter Mura, il nostro competitor in questo momento non è il Manchester City di Guardiola, bensì Fortnite, il videogioco. Perché Fortnite? È molto semplice perché i giovani appunto non hanno più lo sport come, solo lo sport come valvola di sfogo ma possono fare tantissime altre cose, navigare, interagire sui social media e naturalmente giocare ai videogame elettronici. Quindi competiamo per il tempo, dice Mura, competiamo per quei periodi in cui possiamo tenere concentrati i giovani su qualcosa. Oggi il bambino moderno viene atomizzato 10 minuti di qui, 10 minuti di là. Tutti gli sport affrontano questo problema del pubblico e l'intervista di Mura al Paese si conclude con un interrogativo piuttosto significativo. La NFL, il campionato di football americano, propone partite anche di 3 ore, 3 ore e mezza. Ma veramente i fan del futuro si concentreranno per così tanti tempi su un avvenimento? Probabilmente no. Ecco perché gli sport tenteranno una trasformazione, un cambiamento per adeguarsi alle esigenze della fascia più giovane. E lo vediamo nel nostro terzo e ultimo cartello. Vediamo quindi le nuove regole per uno sport più fruibile. A partire dal tennis, l'abolizione dei 5 set e i microfoni per i tennisti mentre giocano. L'abolizione dei 5 set è una regola proposta da più parti ma soprattutto ecco una sostenitrice di questa trasformazione è Judy Murray, la mamma di Andy Murray, famoso tennista vincitore di 3 slam di cui 2 Wimbledon. Ecco Judy Murray dice i giovani non riescono più a seguire un match di tennis che durano 4 ore. Tutti i tornei, compresi i tornei degli slam, devono adeguarsi e adottare 2 set su 3 e non più 3 set su 5. Mentre la seconda trasformazione, quella dei microfoni in campo, viene proposta dall'allenatore di Serena Williams, Patrick Muratoglu, che proprio nelle scorse settimane è venuto in Italia a Milano per il Festival dello Sport e ha parlato appunto dell'evoluzione del tennis, sostenendo che microfonare i giocatori renderebbe il tutto molto più spettacolare perché il pubblico potrebbe sentire ciò che dicono, addirittura anche le imprecazioni e quindi scatenare una discussione sui social. Veniamo alla seconda trasformazione, quella del basket. Si parla dell'introduzione del tiro da 4 e dell'eliminazione dei time out. L'introduzione del tiro da 4 è una proposta che arriva dal New York Times, questo per premiare giocatori come Lillard, come Steph Curry che si sono dimostrati sempre più efficaci nel tiro da oltre 9 metri e dice il New York Times dovrebbero essere premiati non solo con 3 punti ma addirittura con 4 perché aiutano, contribuiscono a rendere lo sport e in particolar modo il basket sempre più spettacolare. Ovviamente la limitazione dei time out per ridurre il tempo della partita e la riduzione delle tempistiche riguarda anche il calcio. Il calcio, vediamo l'introduzione del tempo effettivo, si parla di 60 minuti di match ed è il cartellino arancione. Che cos'è il cartellino arancione? Molto semplice, è un'espulsione a termine, a tempo, esattamente come avviene nella palla a nuoto, cioè per quei falli che si sono pericolosi ma non così gravi come quelli che meritano il cartellino rosso e allora succede che il giocatore viene fatto allontanare temporaneamente dal campo per soli 10 minuti per essere poi reintrodotto. E infine l'ultimo sport interessato da questa trasformazione, la Formula 1, la riduzione del weekend di gara a due giorni con l'eliminazione delle cosiddette prove libere che non suscitano l'interesse dei fan, soprattutto dei più giovani e poi la proposta di gare più brevi, addirittura due gare all'interno appunto del weekend e la seconda gara con la griglia invertita. Che cosa significa? Che gli ultimi classificati nelle prove in realtà partirebbero dalle prime posizioni, questo per rimescolare le carte e rendere la bagara ancora più viva e la lotta ancora più interessante. Di fronte a queste possibili trasformazioni i puristi dello sport storcono un po' il naso, anche se dobbiamo ricordare che non sarebbe la prima volta in cui lo sport subisce delle trasformazioni per adattarsi ai mezzi di comunicazione. Ad esempio è successo con la pallavolo che ha abbandonato il cambio palla per accorciare i tempi e ora nessuno si sognerebbe naturalmente di tornare indietro. Ci ha provato anche il calcio con l'introduzione del Golden Goal, del Silver Goal ma questi esperimenti in realtà non hanno dato gli stessi risultati. Vedremo quindi nel futuro come cambieranno le varie discipline, come cambierà lo sport per adattarsi ai giovani, ai nuovi media e alle loro esigenze per citare appunto ancora Peter Moore, attirare e catturare quei loro frammenti di tempo. Bene, questa era una delle pillole formative e informative di Le Fonti TV che si conclude qui. Io vi do appuntamento alla prossima volta.